Perché tutto quello che si sta purtroppo verificando nel non fare, quindi le azioni in ritardo eccetera, erano, e si ricorda in trasmissione qua, sono state tutte denunciate in anzitempo. Perché? Nel momento in cui fai un decreto terremoto e due terzi sono procedure, è evidente che la burocrazia soffoca tutto. È evidente. E allora dico in questo caso a chi fa sindacato degli agricoltori, ma perché in quelle circostanze non avete fatto sentire la vostra voce e arrivate adesso? Perché poi gli avrebbero detto che erano gufi. No, no, perché c'è un'altra questione che può essere spianato sul governo, sempre appiattito sul governo, non dice niente che vada a criticare il governo. No, perché questo bisogna dire, Moncalvo è andato nelle settimane passate a Penne a dire agli agricoltori tranquilli perché il 28 del mese di febbraio arrivano i soldi. Al 28 non sono arrivati. Dopodiché mettono in piedi la manifestazione a Montecitorio. Allora queste cose che non sarebbero arrivati i soldi, lo si sapeva, lo si capiva, da quest'autunno. Sì, ma la domanda che mi faccio io è perché li prometti? Se anche tu dovresti sapere, tu che li prometti, che non potranno mai arrivare nei tempi promessi. Perché sono stati stanziati? Perché li prometti? Ho capito, li stanzi, ma questo è come dire le casine. Mi lasci essere cattivo. E queste arrivano tutte le casine fra tre giorni. Mi lasci essere cattivo. Hanno ragione ad essere disperati a far vedere la loro disperazione. Molto bene, l'ottimismo regna sovrana per la loro pubblicità. No, 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 ma quello che adesso va fatto, lì seriamente, questo glielo dico con altrettanta criticità. È dal mese di settembre che io ho chiesto in Commissione Agricoltura una visita della Commissione nei luoghi terremotati. È dal mese di settembre che viene rinviata questa missione. E ci sono cose più urgenti. Perché evidentemente dà fastidio prendere atto che la situazione non funziona.